ciao a tutti raga e ben ritrovati in questo nuovo video quest'oggi sono qui per annunciarvi i tre vincitori del contest ma prima di fare ciò vorrei ringraziare tutti quanti quelli che hanno partecipato mi ha fatto molto piacere che questa cosa è piaciuta ci saranno altri contest del genere e comunque non vi preoccupate perché ci sarà anche modo di giocare tutti insieme farò dei raduni anche su alcuni server quindi state tranquilli questo è solo un modo anche per permettervi alla prova e probabilmente presto ne farò un altro simile comunque passando ai fatti ragazzi allora la password era spugna biscotto e palla di slime molti di voi hanno indovinato i tre più veloci sono stati questi ovvero pappabuona 01 ifos e giovanni grimani quindi ragazzi siete stati velocissimi e complimenti per aver vinto questo contest poi vi contatterò comunque mi contatterete voi tramite vari social così ci metteremo d'accordo e poi potremo organizzare un video tutte e tre insieme anzi tutti e quattro perché siamo in quattro quindi ragazzi io ringrazio veramente di nuovo tutti quanti per aver commentato per aver messo mi piace per aver diciamo sostenuto e supportato questo questa questa iniziativa e anche perché ci ho messo tanto tempo è stata una cosa un po impegnativa e ringrazio ancora ciuffo che mi ha aiutato a comporre il primo video sulle regole del contest è stata una mano veramente importante la sua e come avete visto ha fatto un lavoro pazzesco delle animazioni favolose ha capito appieno qual era ciò che volevo c'è ha capito cosa volevo trasmettere e infatti è venuto una figata al video avete visto il me disegnato che io lo adoro anzi ve lo farò comparire in questo momento ed è bellissimo c'è una cosa favolosa ciuffo su queste cose qua è veramente in gamba quindi vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale di ciuffo che troverete in descrizione e troverete anche sulla home del mio canale quindi ci sono tutti i canali che consiglio che seguo quindi ragazzi io faccio di nuovo i complimenti a papabuona01 a ifos e giovanni grimani e per tutti gli altri non vi preoccupate ragazzi perché ci sarà altro un altro contest ci sarà un raduno avremo modo di giocare tutti insieme lo sapete io vi rispondo a tutti quando riesco gioco anche con voi in privato quindi io sono vostra disposizione nei limiti se ho tempo eccetera eccetera e nient'altro se vi è piaciuto questo video mettete mi piace commentate vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link per contattarmi quindi social telegram facebook eccetera eccetera anzi il contatto di telegram poi a breve lo dirò in un video specifico così potete contattarmi in privato perché di solito il mio contatto di telegram lo do in live quindi chi partecipa alle live avrà anche diciamo questa questa agevolazione rispetto agli altri e probabilmente a breve uscirà anche una live quindi tenetevi aggiornati perché faremo un'altra live di minecraft e sto parlando troppo devo chiudere video comunque ragazzi da gioco sporco è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti